Eccolo ma La Roma si attende molto naturalmente da Marco Borriello Fantastici sui primi quattro mesi da romanista Con 11 gol in 22 partite ufficiali Oh presentati Pena lui eh Lui è pena Gli scherzi L'allegria anche sul volto di Francesco Totti Ci fermiamo solo qualche istante per il super spot E poi tutte le emozioni di Roma Catania